penso che non ci sia un bentornato migliore insomma di questo applauso del pubblico di cinema zero per roberto gudese che è la prima volta cinema zero quindi ti diamo il benvenuto e per marco risi che ormai insomma è di casa sei stato un sacco di volte nostro ospite erano un po di anni erano erano un po di anni lo ricordavamo prima era fortapache quando sei venuto con il povero libero di rienzo vorrei partire un po proprio da lì un po proprio da fortapache da quella da quella bellissima serata perché se non ho capito male un po c'è un collegamento tra il punto di rugiada e fortapache cioè l'idea è un po legata anche proprio a pordenone quindi partirei partire da qua come no mi si è avvicinato alla fine di tutto della proiezione delle chiacchiere delle cose mi si è avvicinato un un giovane maestro di scuola che diceva ma io le devo parlare di una cosa ci tenevo che lei sapete ho pensato la solita che ti vogliono piazzare il copioncino invece aveva scritto un libricino ed era una cosa che poi io ho letto e mi ha interessato parecchio questo intanto maestro di scuola poi è diventato uno scrittore famoso anche abbastanza enrico galliano che è uno di qua è volto noto è infatti e doveva esserci anche lui stasera solo che non poteva perché aveva un impegno una cosa di teatro che aveva scritto e questa cosa la sua esperienza perché lui aveva fatto un anno e mezzo di servizio civile al posto del servizio militare all'epoca c'era ancora il servizio militare prima qualche anno prima di quando ci siamo incontrati e insomma mi ronzava nella testa per un bel po però non riuscivo mai a trovare il bandolo della matassa cioè la sceneggiatura non veniva mai veramente quello che che sentivo che poteva essere la vera storia del film e poi alla fine sono passati anni sono passati 15 anni da quella volta lì più o meno però ogni tanto ci pensavo e pensavo che sarebbe potuto venire un bel film poi nel frattempo ho scritto anche un libro che aveva a che fare con me e con mio padre sei anni dopo la morte di mio padre che è durato cinque sei anni di scrittura insomma non è che ci ho messo così tanto ma perché poi facevo anche altre cose e alla fine però mi sono detto io quel film lì lo devo fare lo voglio fare perché aveva a che fare in qualche modo anche appunto con mio padre molte delle cose che avete visto centravano con noi e quindi ci siamo chiusi in una casa per un mese con gli altri due sceneggiatori e abbiamo finalmente trovato il bandolo abbiamo trovato la scaletta giusta e poi abbiamo scritto la sceneggiatura si è eccitato tuo padre e ovviamente credo che il pensiero di molti vedendo insomma anzi ascoltando il fatto che uno dei protagonisti appunto si chiami dino si siano chiesti appunto quanto c'è insomma di di biografico insomma di tuo padre poi ci sono anche un po di altri nomi insomma che in qualche maniera insomma federico si ricordano un po quegli anni e quella quella generazione no dino e dino è molto dino cioè c'è molta roba di dino mio padre addirittura molti oggetti sono erano proprio suoi tipo il bastone che usa dino nel film era il bastone che usa mio padre negli ultimi anni che gli avevo regalato io che all'inizio trattava anche con disprezzo perché non voleva camminare col bastone però poi invece lo usava ma lo usava anche nella maniera sbagliata perché faceva capire che in fondo non gli serviva quindi prendeva bastonate gli alberi e i lampioni e una volta la macchina della polizia anche dove c'erano dentro due poliziotti davanti all'ambasciata di israele che l'hanno guardato come per dire ma che fa questo vecchio e lui ha finto un inciampino per far pensare che aveva alla sordi che aveva inciampato e aveva dato la bastonata per caso poi quegli album lì anche quegli album che sfoglia l'altro ragazzo erano gli album veri di mio padre dove c'erano articoli di giornale che lui ritagliava sono quelli degli anni 70 quindi quindi tante cose chi dice ma nel cul ce l'ha era una cosa che mi diceva ogni tanto a me quando manifestavo qualche perplessità e diceva ma e lui diceva chi dice ma nel cul ce l'ha cuor contento non ha ma invece lui la faceva più volgare con quella dose posato di cinismo di ironia che è anche uno dei connotati nel film nel senso che ci si commuove ci sono dei momenti veramente toccanti emozionanti ma anche ma anche si ride si ride anche no quella ci si diverte si si percepisce anche questa punto ironia si sta cinismo di questa addirittura si può cominciare a ridere all'inizio del film perché si vedono tutti quei dettagli no di queste mani anziane vecchie che che preparano un cappio no e poi come finisce tutta la faccenda con una maniglia che si stacca quindi non è andata a buon fine la cosa potrebbe anche essere una lettura abbastanza leggera quella lì e infatti così qualcuno la prende e ha ragione di ridere di sorridere lì in quel punto come si sorride si ride in altri punti e poi però mi sembra da quello che ho capito ci si commuove anche soprattutto nella parte finale insomma non non te l'aspetti non vorresti ecco non vorresti che succedesse uno oggi ho letto una critica si lamentava di questo finale diceva no finale sbagliato mio padre diceva che i critici non capiscono niente e vorrebbero che tu facessi il film che farebbero loro se ne fossero capaci perfetta direi sì senti roberto come è stato lavorare in questo film quindi immergersi appunto in questo anche incontro incontro scontro a volte insomma tra generazioni come come hai lavorato come ti sei preparato ovviamente per il tuo personaggio e anche come hai lavorato con marco ma preparato gran poco in realtà perché tipo me hanno detto me hanno detto tipo dieci giorni prima di iniziare il ripreso due settimane prima insomma no ci ho pensato molto ho letto la sceneggiatura ho pensato però sai questo mestiere si fa sul momento non tutti puoi preparare quanto vuoi ed è giusto che tu lo faccia a casa poi quando sei lì devi devi sì è come è tutto un problem solving no il quando quando ci si trova la giornata sul set quindi anche la è anche la bellezza di questo di questo mestiere se non ti fai prendere dal dall'ansia dalla preoccupazione fortunatamente c'è stata un bel una bella intesa tra me e marco e lui ha spesso accolto delle piccole cose che ho voluto mettere in questo personaggio per arricchirlo per cercare di arricchirlo rispetto tra le tra gli spazi delle tra le battute no che che lui aveva scritto e devo dire che spesso mi ha lasciato carta bianca e per esempio ci sono ci sono dei momenti non so quando prendo la erica blanca le faccio fare il caschello e l'ho proposto e poi lui ha messo le macchine gli piaceva questa cosa e l'ha messo e l'ha messa questa non è una cosa scontata perché spesso i registi partono con una loro idea e vogliono andare e si dimenticano che noi siamo comunque non siamo solo degli oggetti noi siamo anzi proprio proprio per definizione materia vive quindi non bisogna molti registi si fanno prendere dalla paura anche no del tecnicismo eccetera quindi e quindi e dei tempi perché comunque no c'era una produzione sotto bisogna portare a casa le scene eccetera però invece marco devo dire che spesso ha colto tante delle piccole cose che ho cercato di mettere per per fare la mia versione di questo personaggio con per quanto riguarda invece il rapporto con le generazioni io sto da dio con quelle persone con questi vecchi ovviamente come dicevo anche altre altre volte questi sono vecchi eccezionali e ogni vecchio dovrebbe cercare di arrivare a essere così secondo me perché per deformazione professionale comunque loro si mantengono freschi no quindi in realtà sono vecchi ma si mantengono giovani e non invecchiano quindi quindi in realtà sfuggono al tempo grazie alla loro a quanto attivano la loro mente e quindi con ripeto penso che si possa dialogare molto bene tra generazioni e anche senza tanto sforzo c'è nel senso in maniera proprio divertente io con alcuni di questi sono diventato amico realmente con massimo soprattutto e quindi massimo defrancovici e quindi io abbraccio abbraccio i dialoghi tra generazioni diverse qui vengono raccontate l'estremo però in realtà anche tra generazioni vicine diverse trentenne quarantenne quarantenne sessantenne e quindi questo no poi succede una cosa importante all'inizio del film che non forse non è sottolineata abbastanza ma loro due sono costretti a lasciare i cellulari la mattina e li riprendono la sera e questa cosa qui ti obbliga inevitabilmente ad alzare lo sguardo da così come siamo abituati a vedere tutti i giorni ma non soltanto dei giovani ma anche da parte nostra mia di tanti da così a così e quindi vuol dire guardare in faccia le persone e succede sempre qualcosa quando quando si guardano in faccia le persone poi ci si capisce o non ci si capisce o ci cerca di chiarire io pensavo l'altro giorno quando ero ragazzo anche un po più grande fino a qualche anno fa quando prendevo un treno inevitabilmente succedeva negli scompartimenti nelle cose che dopo un po qualcuno leggeva un giornale una cosa poi nasceva una battuta una cosa uno diceva una cosa e partiva un dialogo su su tutto poteva essere la situazione politica del paese poteva essere l'omicidio di quella cosa lì che era successa si parlava adesso non so si parla forse sì sui cellulari ci si comunica così si scrivono delle cose che anche quella è una forma di comunicazione però isola più che aggregare mi sembra credo nel film secondo me c'è proprio anche questa dimensione del gruppo della comunità un po perché forse è tutto ambientato appunto in un luogo chiuso in un luogo diciamo confinato tutto alla fine si svolge insomma nella casa di riposo e nella nelle immediate vicinanze una cosa che mi ha colpito molto penso uno dei film in cui si balla di più ho visto ballare di più e c'è questa dimensione una cosa che magari insomma si fa forse un po' meno magari in modo diverso non so se ha un significato particolare o l'ho colta solo io da spettatore no intanto mi piaceva che è una cosa forse un po' strana il fatto che uno come lui della sua generazione uno giovane ascoltasse delle canzoni delle musiche degli anni 60 infatti c'è l'altro infermiere che è più basico e gli dice ma che fai ma quanti anni hai ma perché ascolti sta roba e invece lui ascolta Rocky Roberts non so Peppino Di Capri Bruno Martino e poi soprattutto Little Tony e quella scena lì di Little Tony di riderà mi sembra una delle scene più più riuscite del film perché è una cosa anche abbastanza vera quella lì che succede cioè i malati di Alzheimer hanno provato a fargli una cosa facendogli sentire delle musiche del loro periodo ma soprattutto se beccano quella canzone lì cambia completamente lo sguardo l'ho visto proprio in un documentario molto interessante su un tipo che era proprio con l'Alzheimer che aveva uno sguardo completamente spento e quando gli mettevano quella canzone lì cambiava e si illuminava e diventava uno attivo insomma normale dopodiché che fai però è un click in quel momento lì come dice l'infermiera e non è che puoi fargli sentire tutta la vita Little Tony perché poi potrebbe diventare una tortura però ti puoi godere l'attimo come fanno anche loro ti puoi godere questo attimo infatti loro dicono no però si vedeva che era felice stava bene sì in quel momento lì sì e quindi è bello a me è successa un po' questa cosa qui con mia madre quelle cose che avete visto alla fine lei che si sposa con il suo marito che lei non si ricorda neanche di essere mai stata sposata mia madre così verso la fine mi ha chiesto una volta ma ma io addirittura una volta io le ho chiesto lei aveva quasi 90 anni le ho chiesto ma io per te chi sono tuo padre tuo marito tuo figlio e lei mi ha guardato mio figlio ma se sei un vecchio e poi mi ha detto ma chi ma io sono stata sposata sì ma con chi con Dino 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 qualcosa Dino questo nome un pochino diceva ma che faceva eh faceva il regista ah e che film ha fatto il sorpasso ah era bello il sorpasso ecco quello vedi se lo ricordava e lei infatti dice no Mariella Reggio Ariella Reggio dice ma chi era quel signore lì con cui io stavo ballando prima e lui dice l'infermiere dice tuo marito ah mi dispiace così tanto non ricordarmi niente di lui ed era la cosa che aveva detto mia madre quella volta quando cercava di capire chi fosse il marito è strano eh perché ci si perde proprio in un mondo sono stati fatti anche film su questo ma ci si perde in una e fa una grandissima tenerezza mi insomma quella cosa io non l'ho mai presa come una cosa terribile credo neanche lei mentre prima era sempre molto agitata se veniva qualcuno ospite si agitava quando ha raggiunto quello stato lì di cose se ne fregava un po' completamente e stava anche bene poteva vedere la stessa partita di tennis lei era appassionata di tennis e soprattutto di Nadal lei svizzera io le dicevo ma scusa ma devi fare il tifo per Federer Federer è più bravo è meraviglioso è bella è l'arte la cosa guarda come si muove guarda che piedi come riesce e lei diceva no no mi piace Nadal forse perché ha un bel culo Nadal perché in effetti lei è sempre stata da Svizzera però era più per i latini gli italiani gli piaceva la confusione italiana senti in un film di dialoghi in un film di incontri anche ce ne sono veramente tanti è giusto passare la palla a voi il microfono a voi se avete qualche domanda qualche curiosità forse anche solo qualche impressione insomma che volete si questo è il momento sempre più con Robello difficile però poi basta il primo e dopo si scatena se le rompe il ghiaccio si sta qui fino a luna di notte chi è che vuole rompere il ghiaccio? una manina eccola eccola qua grazie volevo chiederle lei cosa ne pensa delle case di riposo? cioè come strutture perché secondo me sono molto tristi sì non so ho questa impressione io ne ho visitate alcune ne ho visitata me ne ricordo una che era veramente molto molto triste ad Aprilia vicino Roma in un paese che si chiama Aprilia poi ne ho viste anche un'altra ne ho viste alcune migliori e non volevo fare un film su una casa di riposo triste perché questa è una bellissima casa di riposo basta pagare e si sta meglio e in quella più bella diciamo con un giardino avevo un giardino bellissimo un bel refettorio e tutte le persone che ho incontrato lì dentro naturalmente chiedevo loro secondo me un po' mentivano però non sembrava erano bravi a fingere ma dicevano che erano andati lì di loro spontanea volontà e si trovavano bene perché avevano persone amiche forse anche che conoscevano avevano imparato a conoscere con le quali parlavano mangiavano al tavolo insieme ogni tanto succedeva che si litigava comunque c'era vita forse c'era più vita lì che nella famiglia con dei figli che erano impegnati impegnati in cose non riuscivano ad avere un contatto strana cosa strana cosa perché sì sarebbe meglio stare stare in casa e vivere ma forse in casa si sono raffreddati molto i rapporti sì intanto complimenti grazie volevo chiederle il tema del fine vita che vedo Dino che affronta in maniera diciamo in sofferenza ma convinta ha qualche aderenza con esperienza sua di suo padre la chiusa del film che richiama il covid anche questa è una cosa che l'ha colpita particolarmente sì per la seconda domanda in realtà quando abbiamo scritto la sceneggiatura era il 2019 quindi ancora non era successo niente poi è arrivato il covid quindi abbiamo cambiato e abbiamo aggiunto quel finale lì con quelle didascalie sui personaggi le varie cose che potevano essere successe a dei personaggi veri anche perché il film è ambientato se vi ricordate all'inizio c'è scritto estate 2018 perché se avessimo girato il film quando l'abbiamo girato avremmo dovuto tener conto del fatto che in una casa di riposo per anziani dopo quello che era successo e che stava succedendo ancora non potevamo girare un film realisticamente senza le mascherine quindi tutto il film sarebbe stato con degli attori compresi anche i giovani che vanno lì con mezza faccia coperta e non è il massimo per un attore recitare con mezza faccia coperta oddio forse per alcuni sì ma e e e invece per quella domanda sì la prima sulla esperienza del fine vita non lo so mio padre me ne ha sempre parlato di quella cosa lì addirittura la prima volta io ero proprio un bambino non mi ricordo che anno fosse però avevo tipo 8-9 anni e Hemingway si era appena suicidato e lui a un bambino di 8 anni disse tipo io farò la stessa cosa insomma che non era proprio una cosa il massimo per un bambino sentirsi dire dal padre e poi alla fine successe una cosa abbastanza strana perché io stavo girando Fortapache a Castelvolturno e lui venne lì era il 4 giugno che era il mio compleanno lui venne lì perché c'era un piccolo festival dove l'avevano invitato che si chiamava Filmare da film ma anche mare e raccontò una sua esperienza eravamo nello stesso albergo non era mai successo prima ed era tre giorni prima che lui morisse quindi stava ancora stava ancora bene e siamo stati lì insieme la sera abbiamo mangiato insieme c'era la mia troupe gli ho fatto conoscere tutti i personaggi e lui era contento stava veramente bene la mattina dopo ancora era contento mi ha telefonato che gli piaceva il posto c'era il campo da golf era l'albergo di Castelvolturno dove si allena il Napoli quindi era contento poi dopo il giorno dopo ci siamo sentiti e lui mi ha detto che era stanco si era stufato non mangiava più mio fratello stava andando dal mare a portargli delle cose a organizzare con un ristorante delle cose da portargli ma non aveva più non aveva più gran voglia proprio si era stufato perché c'erano anche degli acciacchi delle cose così e poi appunto tre giorni dopo era il 4 quindi il 7 giugno e ho ricevuto la notizia io tenevo sempre il telefono acceso perché stavo girando però immaginavo che potesse succedere qualcosa da un momento all'altro mi hanno chiamato e mi hanno dato la notizia lì dal Residence dove viveva che con molta delicatezza la direttrice del Residence mi ha detto ah le volevo dire che suo padre è morto così quindi non lo so sul fine vita ci ho pensato molti l'hanno fatto Lucio Magri che era un personaggio politico non stava neanche male però ha falsificato delle cose perché si era stancato pensava di non star bene così e è andato in Svizzera e è riuscito a farla finita ci sono molti che insomma se io mi dovessi ridurre male 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 a un certo punto chiederei ai miei figli di aiutarmi ad andarmene insomma preferirei non stare tutto il resto della mia vita lì in uno stato vegetale ecco questo sì so che è una cosa un argomento molto delicato però lì bisognerebbe rispettare le volontà di ognuno buonasera direi che la casa di riposo così come è stata presentata è una casa di riposo da sogno ma forse anche un modo per visto che c'era un assessore che ricovera il proprio padre da indicare nello specifico a chi ha responsabilità politiche e il passaggio del dei servizi sociali dei due ragazzi che lavorano all'interno è stata una cosa aggiunta in fase di lavorazione oppure è proprio un motivo specifico che si presta benissimo in quell'ambito come ho detto all'inizio per Enrico Galliano è stata una scelta lui non voleva fare il servizio militare è stato ha fatto il servizio civile l'hanno assegnato in una casa di riposo che probabilmente non era bella come questa ma ripeto io non volevo fare una casa di riposo triste perché secondo me bastava il la solitudine il dolore dei personaggi che erano dentro che magari fingono anche di essere allegri tutto il tempo però hanno le loro malinconie le loro solitudini i ragazzi no non è stato aggiunto è stata la partenza del film cioè loro avevano bisogno all'inizio in una prima stesura addirittura erano addirittura erano 4 o 5 in un primo momento primo primo quando anche Enrico Galliano aveva partecipato alla sceneggiatura venivano estratti quasi a sorte 5 sarebbero andati in un altro tipo di cosa e 5 venivano assegnati lì e quasi sembrava peggio questo dell'altro perché l'altro era una cosa più facile insomma qui invece l'idea di stare a contatto con dei vecchi che uno pensa che gli devi pulire il sedere fare quella roba lì e dice ma che roba che ci capita e invece la cosa è interessante che poi andando avanti piano piano ti accorgi che ci sono tante cose da scoprire tante cose da sapere tante cose che in qualche modo ti arricchiscono per esempio quando si 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 vede la schiena di Erospagni nella vasca da bagno che si tira su e c'è la schiuma che viene via con tutti quei segni tutte quelle cicatrici e lui gli dice sono ricordi di guerra e lui gli dice sì quella che si combatte dentro casa perché anche lì ci sono delle 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 guerre delle delle violenze e quindi però da lì nasce un un rapporto un un dialogo appunto con anche quegli sguardi mi piace molto quella scena in cui ci sono c'è Erospagni il colonnello che si allontana dalla lettura dei giornali e va a sedersi da una parte e si accorge che c'è uno che sta arrivando e poi scopriamo che è il figlio quello che gli ha fatto quelle cose terribili sulla schiena e c'è il ragazzo che guarda e guarda quello che è arrivato il figlio poi guarda il padre c'è un scambio di sguardi con il padre poi lui di nuovo si avvicina verso il vetro vede il figlio che si allontana verso la macchina guarda di nuovo il colonnello capisce che c'è qualche cosa di forte di importante senza dirsi niente e poi sposta lo sguardo da quell'altra parte vede il suo amico quasi che ancora non è proprio amico Dino che si volta e guarda verso la panchina dove c'è Federico il poeta che parla con il figlio quindi quella cosa lì fatta di silenzi però di sguardi per cercare di capire mi sembra sì un buon momento senza bisogno di dialoghi e le poesie quelle poesie che avete sentito sotto i colpi e i lupi sono due poesie di mio zio Nelo che era un bravo poeta fratello di Dino Nelo Risi che poi ho scoperto noi erano una famiglia di poeti più che di anche lui era cineasta anche lui era regista però era un bravo poeta che era stato sponsorizzato molto da Eugenio Montale quindi dal maestro Montale e anche suo padre cioè mio nonno padre di Dino e di Nelo anche lui che era un medico bravo era stato medico di Mussolini durante la prima guerra mondiale lui era sergente medico mentre Mussolini era caporale e poi quando Mussolini è diventato invece fascista lui era prima ancora medico della famiglia di Mussolini avevamo una lettera con scritto vieni presto Arnaldo la Rachele ha dei foruncoli sospetti poi non è stato più medico perché lui invece non è rimasto socialista però andava a sentire i discorsi di Mussolini in piazza e si rifiutava di togliersi il cappello rischiando un sacco di botte però c'era uno squadrista della famiglia Sigfrido pensai che bei nomi che lo salvava ogni volta dalle botte senti un'ultima cosa anche per per chiudere secondo me la merita il titolo il punto di Ruggiada perché credo che sintetizzi un po' anche questo questo incontro e ho letto che nasce anche da un altro un altro incontro l'idea del titolo da dove è origine si nasce da nasce da un tipo un uomo adulto per non dire vecchio un'altra volta che incontravo ogni tanto in un ristorante dove andavo a mangiare la sera che prima era in un modo poi invece si era imbellito si era ripulito gli ho chiesto un po' di cose ho scoperto che era un pianista uno che prima suonava il pianoforte poi il poverino le mani hanno cominciato e non riusciva più a suonare bene il piano e però si dilettava anche di meteorologia e un giorno gli ho detto dico mi sembra una bella giornata oggi Pierluigi e gli ho detto ma non sarei così convinto dici io sono un po' preoccupato per il punto di ruggiata e quando ho sentito il punto di ruggiata mi è sembrata una cosa bellissima mi sembra un titolo bello evocativo in qualche modo forse più letterario che cinematografico ma poi mi sono andato a vedere esattamente cosa fosse il punto di ruggiata in realtà non ci ho capito benissimo cos'è esattamente il punto di ruggiata però è quella cosa lì alla fine sintetizzando è quella cosa lì quando c'è un incontro scontro fra un'aria fredda e un'aria calda quando si forma la condensa sui vetri di casa perché fuori fa freddo e dentro fa caldo quella lì è un po' anche il momento del punto di ruggiata può i piloti d'aereo un giorno un piloto d'aereo ha detto noi siamo un po' preoccupati per il punto di ruggiata perché quando succede il punto di ruggiata si possono ghiacciare le ali dell'aereo e lì invece dà luogo a una scena insomma bella allegra che è la nevicata abbiamo oltrepassato il punto di ruggiata fra alle 8 e 36 avrà luogo all'avvenimento e lì c'è tutta un po' una sospensione anche prima ci sono tutti che sanno che sta succedendo qualcosa però c'è un silenzio in questa sala c'è quello che gira il caffè piano piano l'altro che beve di nascosto sempre il suo guischetto dalla fiaschetta l'infermiera che passa piano piano perché si sta preparando un avvenimento che riporta i vecchi ad essere come i giovani quella addirittura si toglie le scarpe ai piedi nudi il colonnello che fa la pipì nella neve quella lì è proprio una cosa che faceva Vittorio Gasman lui quando quando nevicava era successo alla mia ex moglie che era stata fidanzata con Alessandro Gasman una volta era in viaggio con Vittorio a Roncobilaccio aveva nevicato c'era tanta neve così si è fermata la macchina e lui si è allontanato un po' e ha fatto quella cosa lì la pipì nella neve perché gli ricordava quando era bambino e questo gli dava come fa Aerospagno una gioia infinita e sulla pipì possiamo chiudere in bellezza grazie ancora Marco Risi Roberto Cudese grazie a voi di essere qui di essere venuti grazie a tutti